A una star televisiva, ha anche una bellissima voce radiofonica, devo dire, scrittrice, benvenuta a Serena Dandini. Serena, bentornata, non ci possiamo abbracciare, accomodati. Ed è veramente un sacrificio. Inerpicati sullo sgabello. Perché devo dire che in questi tempi fragili ho un'emozione a vederti. Davvero, pure io, guarda, era un po' che non ci vedevamo e sto leggendo il tuo libro che è appena scritto La vasca del Führer per Einaudi, poi ne parliamo perché è una storia affascinante, bellissima, davvero. Possiamo dire che abbiamo fatto l'università insieme. Complimenti, Corrado. Grazie, grazie. Allora, intanto, proprio perché non ci vediamo da un bel po', come stai? Bene, nonostante tutto, perché appunto tempi fragili, stavo dicendo. Che lockdown ti ha depresso o ha tenuto botta, insomma? Allora, diciamo che mi sento una privilegiata perché posso stare a casa a scrivere e sto lavorando. Però devo dire che al di là della grossa crisi generale, economica e sanitaria, che è la cosa più importante, credo ci sia anche una crisi psicologica a cui dovremo far fronte quando ne usciremo. Perché sono tutti più fragili. Come diceva Stefano Massini, non sappiamo dove andrà, come sfogheremo tutto questo e in che tempi, no? Sì, abbiamo perso la socialità dei corpi, no? Il piacere dell'abbraccio, dell'amicizia, della carezza. Quindi sicuramente è una cosa che è una ferita profonda che è dentro di noi e con cui dovremo fare i conti. Penso ai giovani poi, no? Questa mancanza della scuola che ci auguriamo. Certo, infatti ora ci arriviamo anche alla scuola perché, diciamo, poi abbiamo conosciuto questi DPCM. Oggi è uscito l'ultimo DPCM, quello sul pranzo di Natale, Capodanno, gli spostamenti. C'è materiale per una trasmissione satirica, secondo te, sui DPCM? Beh... Lo dico a una grandissima autrice satirica. Vieni a me sicuramente, c'è tanto materiale. Poi le task force, per esempio, se fossi in onda adesso farei delle task force, meraviglioso. La task force della task force, però devo dire anche che nonostante la sofferenza, appunto, è giusto. È giusto così perché solo i morti di oggi ti fanno... Ti ha 993 morti. Eh, voglio dire, ce la siamo sempre presa con questi Natali opulenti, no? Facciamo un Natale sobrio, si può fare. Nel senso, davanti a chi, per esempio, non potrà festeggiare il Natale con i propri cari che non ci sono più sinceramente... Cioè, fa impressione la polemica sul cenone il giorno dei mille morti, no? Sinceramente non mi prende più di tanto. Insomma, capisco che va bene così, è giusto così. Sì, poi dobbiamo stare attenti a capire se le misure sono giuste. Sempre vigili, diciamo, sul tema delle libertà, no? Sempre. Sempre capire che non ci si approfitti di uno stato di emergenza, quindi è sempre bene essere. Sempre. Però la situazione è grave e tu hai paura del virus, personalmente, e del futuro, diciamo, del dopovirus. Certo che ho paura del virus, non sono spavata come la protagonista del mio romanzo. Non sei lì mille, diciamo. Anche lì bisogna poi... Ecco, per esempio, mi ha aiutato a scrivere questo libro, mi sono immersa poi negli anni anche della Seconda Guerra Mondiale, no? E quando vedi comunque la forza che hanno avuto i nostri nonni e bisnonni, la resilienza, no? Con cui hanno sopportato delle cose ben più gravi di questa, no? La storia ti aiuta sempre perché ti dà coraggio. Infatti, tu hai questo... In questo libro, oggi si dice che la pandemia è come una guerra, no? Questo libro parte da una fotografia di guerra. Cioè, questo straordinario personaggio che è Lee Miller, che è una fotografa, ma è stata un'indossatrice di Vogue, una donna bellissima, autonoma, spregiudicata, che poi fa la fotografa, entra nel campo di concentramento di Dachau, come reporter, proprio durante i giorni della liberazione, no? E fotografa tutti questi morti. Ma il tuo libro non parla di quelle fotografie lì, parla, parte da una fotografia. Dopo, perché a fine giornata, con ancora gli scarponi sporchi del fango del campo di concentramento, lì Miller entra nella casa del Führer, a Monaco di Baviera, la casa di Adolf Hitler, e si immerge in una specie di raptus dentro la vasca da bagno di Adolf Hitler. Vedete, lì c'è la fotografia di Hitler, c'è la sua vasca con le piastrelle, no? Perché ha costruito questa foto, lei è anche un'artista surrealista. E si fa fotografare dal suo compagno, tra l'altro era anche il suo amante, era un dettaglio, ma era un fotografo, anche lui un grandissimo fotografo. David Sherman, di live. Erano insieme. Si fa fare questa foto che è, non posso dire, iconoclasta, non saprei dire. È veramente un regolamento dei conti, no? Nei confronti del male che lei ha vissuto. Entrare a Dachau, tutti quelli che hanno testimoniato quegli orrori, non si sono più ripresi, diciamo, e comunque le foto che lei ha scattato, che poi sono foto anche importanti, dei campi di concentramento, l'hanno segnata per sempre. Quindi lei, quando arriva a Monaco di Bevera, entra in questo appartamento, peraltro un appartamento che lei descrive di una banalità dozzinale, no? Quasi. Lei si aspettava il castello del male, no? Dove ha vissuto l'uomo che ha inferto dolori e sofferenze a milioni di persone e invece trova questa casa con degli oggetti dozzinali, delle riproduzioni d'arte, un po' pacchettino. La tua eteneo classica. Esatto. E quindi rimane quasi scioccata e ha bisogno di fare un gesto. Lei ha militato con i surrealisti. Certo. E quindi fa un gesto artistico, un po' spudorato, si immerge nuda nella vasca del Führer, mettendo il ritratto di Hitler proprio a sberleffo davanti a lui per anche un esorcismo in qualche modo, che solo l'arte può fare. Cioè lei è l'esponente di quella che Hitler avrebbe definito l'arte degenerata in qualche modo. Cioè il surrealismo, tutto ciò che era fuori dai canoni, no? Tutti gli ismi, no? Tutti gli ismi. Esatto. E quindi lei fa questo sfregio. L'arte che lui aveva esposto dileggiandola in Germania e oltre a questa aveva perseguitato gli artisti. Certo. Nel libro ci sono anche le storie di tutti gli amici di Lee Miller, un gruppo di idealisti, sognatori. Lei è stata fidanzata con grande artiste, fotografo, surrealista, Man Ray. Esattamente. Lei è stata fidanzata con tanti, perché lei era una donna molto libera. Quando l'hai conosciuta, nel senso quando hai appreso di lei. E proprio guardando, sono incappata in questa fotografia, mentre stavo scrivendo il catalogo delle donne valorose, il mio libro precedente, e vedo questa foto e rimango, no? Perché è una foto che scavalca il tempo. Dopo 70 anni è così forte. Adesso noi siamo abituati a tante foto. Abbiamo i telefonini pieni di foto digitali che manco le guardiamo più. Sono ininfluenti, no? Invece la forza di una foto che veramente ti arriva come un pugno, perché in qualche modo ti dice tante cose, ma ti dà la voglia di capirne di più. Io quindi sono andata come una specie di detective a annusare la vita di questa donna e sono rimasta, perché lei in qualche modo attraversa la storia, trovandosi sempre, sai come una specie di zelica, al posto giusto nel momento giusto, no? È sempre dove avveniva la storia. Aveva un fiuto, naturalmente non indifferente, ed era molto coraggiosa, ma soprattutto Corrada era una donna libera. Di una libertà in cui forse oggi non siamo quasi più abituati, no? Noi abbiamo le spalle un po' abbassate, siamo più paurosi. Invece mi ha colpito molto, per esempio, il discorso di Kamala Harris, no? La vicepresidente degli Stati Uniti. Sì, che ha detto alle ragazze, quando ha parlato alle ragazze, ha detto sognate sogni ambiziosi. Mi ha colpito, no? Perché è una frase che forse in un discorso intero potete sfuggire, no? E lei sognava sogni ambiziosi. Era anche una cattiva maestra, se vuoi, ma noi abbiamo bisogno anche di cattive maestre. Specialmente noi donne, perché siamo troppo legate a certe regole, capite? Stereotipi. E quindi per uscire dagli stereotipi abbiamo bisogno delle cattive maestre. Però io voglio rimanere un attimo ancora in quella foto, perché tu puoi scrivi una cosa, libro, che la rispettabilità del male è perfino peggio dell'orrore, no? Cioè che questa foto qui, in qualche maniera, racconta del male, quasi più di una camera gas, no? Dei corpi, delle persone sterminate. Perché in questa banalità però c'è il mostro, no? Me l'ha insegnato Anna Arendt, devo dire. Certo, la banalità del male l'ha raccontata lei, no? Farina del mio sacco. Certamente, insomma. Completamente, lo confesso. Perché hai rubacchiato da Anna. Ho rubacchiato da Anna. Che dice delle cose incredibili del male e dei regimi totalitari. È molto interessante, no? Perché poi, ripercorrendo la storia, come sempre, tu cerchi... capisci delle cose di oggi, no? A proposito di Anna Arendt, c'è una frase famosa. Lei dice, come dire, il suddito perfetto di un regime totalitario non è il comunista convinto, il nazista convinto, il fascista convinto, ma è colui per il quale finzione e realtà sono ormai la stessa cosa, che non distingue più il vero dal falso. No, pensa, una frase del 48. Pensa quanta è vera. Riscoprendo quel tipo di sovranismo, totalitarismo, quel tipo di regime lì, come sono arrivati? Capisci tante cose e tanti pericoli che noi possiamo correre, no? Tra l'altro, uno dei... Mi riferisco sempre a una frase del tuo libro, a un certo punto c'è Lee Miller, no? Che scrive il fatto che non ci fosse alcun dubbio che gli abitanti di Daco sapessero quello che succedeva nel campo di sterminio, no? C'è un bellissimo saggio di uno storico ebreo che si chiama Daniel Goldhagen che si intitola I volenterosi carnefici d'Itler che racconta la macchina della complicità, no? Del vicino di casa che denunciava di quelli che facevano finta di non sapere. Quindi, alla fine, anche questo, no? È il rischio che noi corriamo, no? Quello di... Semplicemente di tacere, no? Di non sapere... Di tacere o di credere a una propaganda. Perché io non penso che possano tornare i fascismi, i nazismi, i baffetti, le cose, eccetera. Però, nei momenti di crisi, nei momenti economiche, di difficoltà, bisogna stare molto attenti che il vento della propaganda può soffiare e infiammare gli animi come, d'altronde, Hitler è stato eletto. Se ci ripensiamo, no? È una cosa che fa detta così sciocca. E quindi, tutto quello che riguarda oggi la propaganda, le fake news, bisogna vigilare. Voi fate dei servizi stupendi e vi ringrazio per questo. Non bisogna darli per scontati. Nello stesso, non bisogna dare per scontato qualcosa che sia falso. Dobbiamo dire è falso, no? Esatto. E poi c'è un'altra cosa che mi colpisce e che ci riporta a quell'immagine così forte, no? Solo apparentemente normale di vita quotidiana è invece così forte come quella bagno nella vasca del Führer. Cioè, tu non trovi che anche rispetto a 20 anni fa, soltanto 20 anni fa, con la scusa della privacy, del politicamente corretto, della tutela dei minori, del rischio delle cause legali, dello strapotere degli uffici legali, siamo arretrati nell'uso delle immagini. Cioè, delle immagini che 20 anni fa avremmo pubblicato, ho mandato in onda oggi, è molto più complicato mostrarle. E anche perché i social, per esempio, immediatamente ti inchiodano, ti accusano di speculare, di fare propaganda, di utilizzare il dolore degli altri. Questo è un pericolo che noi stiamo correndo, secondo te? Sì, è un tema, guarda, molto delicato, che è difficilissimo, perché da una parte devi proteggere, devi difendere, ma dall'altra, io credo che gli artisti surrealisti oggi non avrebbero potuto fare una cosa, probabilmente, e quindi questo ti dà, però, un'inquietudine, no? Perché effettivamente la libertà d'espressione, la libertà artistica, è una cosa che va tutelata, e la rappresentazione del dolore nella sua brutalità, no? Pensa alle polemiche sulle immagini dell'Isis, per esempio, no? Sui morti, che non si possono mostrare, però i morti fanno parte della nostra vita, come le guerre, il dolore, no? D'altronde, se donne, come lì, Miller e uomini, non fossero entrate in quei campi di concentramento, non avessero fatto riprese foto, lei, quando manda Rullini, tra l'altro, lei era inviata di Vogue, perché lei era una modella di Vogue, quindi lei è fotoreporter per Vogue, quindi dentro questo giornale, pensa a te, mettere queste foto mostruose. E lei manda questi Rullini a Vogue, perché c'era un'editrice, naturalmente illuminata, che aveva detto non possiamo noi essere fuori dalla storia, c'è sempre un mentore nelle storie che dà il là, e manda un telegramma e dice credetemi, è tutto vero, solo queste parole, perché comunque, pensa, oggi ancora dobbiamo combattere contro i negazionismi, e se non ci fossero state queste immagini, capisci che non avremmo potuto capire a pieno cosa era veramente successo. Senti, voglio tornare un attimo al Covid, tu hai inventato la TV delle ragazze, no? Allora, Sì, a me, a Valentina Muri, a Linda Brunetta, un triunvirago, un triunvirago, ragione. Oggi assistiamo a un gigantesco arretramento delle ragazze e delle donne a causa del Covid, nel senso che sono state le donne ad aver rinunciato per prime, a doversi fare da parte, perché, perché, perché erano i lavori più precari, perché erano i lavori più precari, perché le scuole hanno chiuso e quindi qualcuno doveva rimanere a casa. Ma questo succedeva nella guerra, succede in tutte le crisi del 29, è sempre così, le prime. Si poteva evitare tutto questo, perché ha colpito, diciamo, come le donne abbiano perso in pochi mesi quello che, insomma, si pensava dato per, in qualche maniera, per... Non parlare di quelle che sono rimaste costrette a casa e che hanno vittime di violenza domestica che lì si è acuito il problema in una maniera forse nata. Poi le donne hanno sostenuto, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, i paesi durante il Covid. Tu pensi che più della metà del personale sanitario negli ospedali è formato da donne. Tu pensi alle donne che sono rimaste a casa e si sono occupate della cura dei figli. Nell'RSA, pensa. Nell'RSA. È arrivato il momento, guarda, non c'è più margine, che adesso in tutte queste task force se non mettono delle donne si scende in piazza. Ma in queste task force ne mettono 300-400 in ogni task force, per cui comunque qualche donna ce la mettono. Non si capisce cosa servono 300 persone nelle task force. Poi dopo, uno protesta, ne mettono due di facciata. Se non hanno i numeri di telefono, eccetera, io ti dico, no, perché non fai un bel libro bianco? Ci sono esperte, virologhe, scienziate, astrofisiche, dimmi una categoria e te la dico che, bravissime, piene di idee, non si può costruire un mondo nuovo senza lo sguardo di metà del mondo. È una follia e quindi sono anche automunite, vengono, diciamoglielo nel senso. Ma tu vuoi parlare della RAI? Perché? No, perché stai pensando al tutorial con la spesa sexy, sai la signora col carrello della spesa sexy? Certo. No, dico, pensavi fosse possibile nel 2020 una scena del genere che la RAI? Una cosa della TV delle ragazze, della TV di genere. Sembrava la presa in giro della TV delle ragazze di una cosa degli anni 50. Adesso ti dirò una cosa che ti spiazza. No, voglio dire, la difendi. Non difendo lei perché quella cosa lì, non è che c'è quella cosa lì, ce ne sono mille così. Tu togli quella, fai lo scandalo, toglietela, censuratela, togli quella, ce ne sono altre cento così. Vogliamo capire che è una mentalità, che è una cultura che trova queste cose assolutamente normali. Ancora abbiamo tutti questi stereotipi femminili che imperano. Allora quindi il problema non è lei in particolare, che tutti l'hanno come dire lapidata, che alla fine quella doveva fare un lavorare terribile la cosa, figurati se ci piace da prendere in giro. Però è sopra di lei, è autori, è capistruttura, è direttore. Allora, c'è una mentalità, togli uno, ce ne sono altri cento. Questo secondo me è una cosa che credo, bisogna fare un cambiamento culturale forte. Guarda questa foto invece, mi fate vedere la foto della calciatrice spagnola? Cioè, me la mettete la calciatrice spagnola da qualche parte? Eccola qua, guarda, qui praticamente c'è un minuto di silenzio per Diego Armando Maradona, su un campo di calcio femminile e spagnolo tutti in piedi, questa si rivolta di spalle e si siede perché è il suo modo di protestare per come Maradona trattava le donne. Pensa, l'avevi vista questa foto? Questa è impressionante, vero? No, abbastanza impressionante. Non ne ha parlato quasi nessuno, devo dire, però è un gesto anche questo un po' surrealista, ma insomma... posso dirti? È molto surrealista. Molto surrealista. La ragazza è surrealista. Senti, la RAI di oggi ti piace? La RAI di oggi alcune cose mi piacciono e altre no. Come la RAI di ieri. Ma sei la televisione pubblica, non mi piaceva tutto. Sei la televisione pubblica. No, io non sono la televisione pubblica. No, però nel senso che la tua storia è la televisione pubblica è proprio... Io sono sentimentalmente legata alla RAI, però sono sempre stata anche un po' una fuoriuscita, più che... Oh, guarda che meraviglia. Il capello non si può guardare, ma comunque è interessante. Perché, sai, ho fatto dei programmi non con la frequenza e l'assiduità, perché un po' sono irrequieta. Non a caso mi piace di Miller. Ho sempre bisogno di fare delle cose nuove. Un po' devi trovare dei punti di riferimento, dei direttori, dei mentori, delle persone che ti danno... Oddio, questo vedi, è una voce che arriva un po' dicevo, devi trovare dei mentori, dei punti di riferimento, delle persone che ti danno la libertà di fare quello, di credere anche nella sperimentazione che non sempre, diciamo, riesce bene. In questo momento, diciamo. Però, non è facile trovare queste persone. Senti, ti manca la politica, le ultime domande che ti voglio fare sono queste, ti hanno mai chiesto di candidarti in politica? Beh sì, a chi non l'hanno chiesto? A me non l'hanno mai chiesto. Non l'hanno mai chiesto? Mai. Corrado, questa è una cosa gravissima. O è un buon segno? Sono un po' offeso, devo dire. Devo dire che rimarrei male, va bene. Quindi te l'hanno chiesto, insomma, non ci ha mai pensato. No, non è il mio, assolutamente. Chi vorresti sindaco di Roma? perché sei proprio romanissima. Guarda, aspetto altre anche candidature, mi sembra, la cerchia, mi sembra che qua nessuno si vuole. Ma Virginia Raggi? Beh, si può anche cambiare, no? Diciamo, voglio dire, si può cambiare. Lasciamo a Sabina Guzzanti, Virginia Raggi. Sì, viene benissimo. Lo so, lo conosciamo bene. Grazie a Serena Dandini, la vasca del Führer è bellissimo ed è soprattutto un personaggio, insomma, che io non conoscevo ma fascino pazzesco. È bene ripassare la libertà. Grazie, Serena Dandini. Non ci possiamo baciare, come se. Grazie. Grazie, ciao cara.